Si inaugura oggi Incontri con l'Autore, una nuova iniziativa ISFOL dedicata alla presentazione di libri che fanno riferimento alle tematiche tipiche dell'Istituto, come il lavoro, la formazione, temi di ricerca sociale. Oggi ospitiamo Emilio Raineri e Federica Pintaldi, autori del volume 10 domande su un mercato del lavoro in crisi. Perché il nostro mercato del lavoro stenta a ripartire? Il mercato del lavoro stenta a ripartire perché non è ripresa l'economia. Abbiamo qualche segnale di ripresa dell'economia piccolo in questi giorni, però dovremmo attenderci uno scarto temporale di alcuni mesi prima che riparta, normalmente 5-6 mesi di ripresa dell'occupazione rispetto alla ripresa dell'economia. Speriamo che i segnali siano positivi e che alla fine del 2014 ci sia anche una ripresa di occupazione, tenendo conto che prima si asciuga la cassa integrazione, prima si asciuga alcune attività che si stabilizzano e poi speriamo che riprenda. Noi siamo in questo momento a avere un rapporto tra occupati e popolazione che è tra i più bassi, se non il più basso d'Europa e questo è un serio problema. Grazie professore. A Federica Pintaldi, coautrice dello stesso volume, domandiamo che cosa ci dicono i numeri rispetto al nostro mercato del lavoro? I numeri purtroppo ci dicono che siamo ancora in un periodo di crisi e anche nel 2013 l'occupazione continua a calare, anzi siamo a livelli se non più alti di quelli del 2009, quindi è un punto molto credito. Tra l'altro ci sono altri due fattori caratteristici del 2013 che sono l'occupazione a termine anche torna a calare, mentre nei due anni precedenti c'era una ripresa, cioè i pochi imprenditori forse che assumevano prendevano lavoro a termine. Adesso non c'è neanche più questo fattore. E l'altro è che torna a calare l'occupazione femminile. In tutto ciò dobbiamo dire che il sud sta molto male rispetto agli altri aree geografiche, sta aumentando, i divari territoriali stanno aumentando. Grazie professoressa. Chiudiamo con una domanda a professor Raineri rispetto agli aspetti positivi del nostro mercato del lavoro? Si possono valorizzare? Quali sono? In che modo appunto, ripeto, si possono valorizzare? Grazie. Noi abbiamo una grande risorsa da sfruttare che sono i giovani sempre più istruiti e anche devo dire sempre più mobili, disposti a emigrare dal sud verso nord, disposti a emigrare all'estero purtroppo e senza tornare. Questa è la nostra risorsa che noi non sfruttiamo. Direi che una ripresa economica avrebbe a disposizione questa platea da utilizzare. Certamente il problema occorrono investimenti, occorre la ripresa, occorre una ripresa della domanda interna che in questo momento è particolarmente bassa. La risorsa è tra l'altro anche molto disponibile a rapporti flessibili come stiamo dimostrando in questo momento. Quindi questa è una risorsa da sfruttare che però per ora è poco sfruttata. Grazie a professore Emilio Ranieri e alla professoressa Federica Pintaldi, autori del volume 10 domande su un mercato del lavoro in crisi.